L'Ottica Cerasi vi augura buone feste e sulla slitta di Babbo Natale vi propone le migliori soluzioni per la vista e magnifiche occasioni per i vostri regali di Natale. Vi aspettiamo da Ottica Cerasi in Corso Italia 210 a San Giovanni Valdarno. Buone feste a tutti! La Casa del Caffè dal 1962, torrefazione artigianale, dove puoi trovare le miscele di caffè dalle più pregiate a quelle di uso quotidiano. Vendita a caffettiere moca e macchinette per caffè espresso, con un vasto assortimento di cialde e capsule, originali e compatibili con macchinette Lavazza, Lavazza Modomio, Nespresso, Bialetti, Caffitali. In occasione delle feste potete trovare tante idee regalo, anche personalizzate, con consegna a domicilio. Casa del Caffè da 50 anni a San Giovanni Valdarno in Corso Italia 42 e adesso anche nel nuovo punto vendita a Terranova Bracciolini. Nettere di Vino via Roma 16A a San Giovanni Valdarno vi augura buone feste e sulla slitta di Babbo Natale vi propone cesti natalizi personalizzati da tutti i prezzi e per tutti i gusti. rivenditore ufficiale del Pambria Cone Bonci e vi aspetta con i suoi 30 vini sfusi provenienti da tutta Italia. Da Nettere di Vino buone feste!